Giorgio Malan è un campione di pentathlon moderno, dimostrando le sue abilità in diverse discipline durante le Olimpiadi di Parigi dove ha conquistato una medaglia di bronzo in modo inaspettato. Nato a Torino nel 2000, Malan è anche un brillante studente di economia e management, con l'obiettivo di intraprendere una carriera manageriale o nel marketing sportivo in futuro. Tuttavia, la sua passione attuale è lo sport e a Parigi ha dato il meglio di sé. Durante la competizione, Malan ha affrontato diverse prove, iniziando con l'equitazione dove ha ottenuto un punteggio perfetto senza penalità. Nonostante una performance deludente nella scherma, Malan ha brillato nel nuoto, guadagnando punti preziosi e posizionandosi per una possibile rimonta. Infine, nella corsa combinata con il tiro a segno, Malan ha dimostrato la sua determinazione e velocità, tagliando il traguardo al terzo posto e conquistando la medaglia di bronzo. La sua versatilità e abilità atletiche hanno reso Giorgio Malan non solo un campione, ma anche un idolo per molti, elogiato anche per la sua bellezza e fascino. E così, Giorgio Malan ha conquistato il cuore del pubblico, diventando un'icona dello sport italiano e una promessa per il futuro delle competizioni internazionali. Fin dall'inizio, è stato chiaro che Malan aveva tutto il necessario per emergere come una stella, e le Olimpiadi di Parigi del 2024 sono state la conferma del suo talento e della sua determinazione.